Buongiorno, vi parlo dell'argomento che interessa praticamente ogni essere umano, il corretto funzionamento del corpo. Protena, che opera da più di vent'anni nell'ambito della protezione naturale della salute del benessere, proprio propone la sua linea di 18 protettori naturali i quali servono ad aiutare in maniera incisiva e mirata il sistema immunitario che è il nostro pilastro in base al quale noi possiamo sopravvivere e sopravvivere soprattutto alle offese virali piuttosto che degenerativi o quant'altro. Perché bisogna aiutare il sistema immunitario? Il sistema immunitario è sottoposto a un continuo attacco e a un continuo impoverimento a causa dell'impoverimento delle materie prime che provengono dagli alimenti. In più è continuamente sotto attacco da parte di un nemico che si chiama stress, che praticamente oramai è diffuso in tutto il mondo civilizzato o industrializzato. Lo stress limita le capacità difensive del sistema immunitario e lo scombina, quindi non ha più un corretto funzionamento. Quindi se vogliamo sopravvivere bisogna mantenere efficiente il sistema immunitario. Ecco perché ci sono gli integratori alimentari. I protettori naturali protena sono integratori alimentari di altissimo livello in termini di purezza, di efficacia e di scelta dei componenti attivi delle materie prime, solo componenti attivi che sono stati validati scientificamente. La linea abbraccia praticamente tutti gli aspetti del funzionamento del corpo umano, quindi abbraccia sicuramente tutti gli aspetti degenerativi, ma anche l'invecchiamento precoce, anche il sistema circolatorio, anche il fegato, anche le articolazioni, la mente, l'umore, l'energia, il tono e si occupa anche di aiutare la detossicazione dalle tossine, dai radicali liberi e dai metalli pesanti che creano forti menomazioni nel corpo. Questi prodotti che sono integratori alimentari e quindi sono nient'altro che materia prima alla stregua di un cibo specializzato, concentrato, purissimo, sono proprio quelli di cui il corpo ha bisogno proprio di cibarsi in maniera tale da poter funzionare bene. Funzionare bene vuol dire fornire a ogni sistema biologico del corpo la materia prima, diciamo il combustibile, per lavorare bene. Purtroppo i combustibili, come abbiamo visto, sono di cattiva qualità molto spesso e quindi ecco che occorre l'integrazione. Ma oltre all'integrazione occorre un'azione specializzata, quindi ribadiamo questo concetto che i protettori naturali proteina tutti indistintamente lavorano sul sistema immunitario con azioni specializzate sugli organi e sulle funzioni biologiche e hanno per scelta aziendale un livello altissimo di qualità di purezza di concentrazione e di scelta dei componenti attivi. Questa è la base del corretto funzionamento del corpo per donare anche quel benessere, quel tono e quell'umore che è alla base anche di un abbattimento di uno stato di stress che abbiamo visto è uno dei principali fattori di menomazione del sistema immunitario. La domanda è, ma perché voi dovreste comprare gli integratori della proteina piuttosto che altri? Essi sono nati con una visione molto chiara del corpo, di aiutare tutti i distretti del corpo in tutte le sue attività e in tutte le sue funzioni, quindi non si tratta di un prodotto che serve contro qualcosa, ma serve di aiuto, di protezione, non contro ma per funzionare bene nei vari distretti del corpo, come ho detto poco fa. Altro punto molto importante è che tutti i componenti attivi della proteina, dei protettori naturali della proteina, sono di origine naturale, sono componenti fitoterapici. E questo è molto importante perché il sistema immunitario riconosce immediatamente ciò che è naturale e quindi le sostanze attive vengono inglobate senza spesa di qualsiasi tipo, senza spesa di energia o di necessità di analizzare se il prodotto è naturale o sintetico. E questo è stato un must, proprio un indirizzo preciso della nostra ditta proteina fin dall'inizio. Entriamo adesso nell'ambito di un altro punto molto importante che sta a cuore a tutti, a ogni essere umano, che è l'invecchiamento. L'invecchiamento di per sé stessa è una parabola discendente a cui bisogna dare rispetto e funzionalità. Il vero problema è l'invecchiamento precoce, con un'età biologica giovane, ma con un invecchiamento psicofisico. La maggioranza dei nostri prodotti agisce in maniera molto positiva nel non tanto rallentare, quanto dare qualità alla vita per evitare un invecchiamento precoce. Come voi potete vedere abbiamo parlato dei due argomenti fondamentali. Uno percepito, l'invecchiamento, l'invecchiamento precoce, e uno meno percepito e conosciuto, che è il sistema immunitario. Allora adesso andiamo molto velocemente a scorrere una tabella che crea la correlazione fra i 18 tipi di protettori naturali, protena, e le relative azioni. In particolare è molto importante andare a vedere che vengono coperte tutte le aree di funzionamento più significative. Quindi si parla di fegato, si parla di circolazione, di difese immunitarie, di tumori, di invecchiamento, di stato mentale e umore, di articolazioni, funzionalità delle articolazioni, del sistema respiratorio, del tono sessuale. Ogni prodotto ha un'azione mirata. In particolar modo noi siamo specialisti, lavorando con degli scienziati giapponesi, di estratti di funghi standardizzati e concentrati, funghi orientali, i quali aiutano in maniera molto significativa il sistema immunitario, agendo sul sistema innato, quindi dei macrofogi, e sulla modulazione. La modulazione praticamente è come una articolazione che il corpo, il sistema immunitario usa per poter utilizzare al meglio queste materie prime che vengono presentate. Quindi in particolare essi sono in glicerina vegetale liquida, gradevolissima al gusto, e vi sono cinque prodotti che fanno parte di questa linea a base di funghi. Essi sono Fudan, Planim, Micodin, Nutrum, Naki. La protezione è qualcosa che interessa tutti noi. Quindi se volete approfondire tutto ciò che vi è stato esposto qui, andate sul nostro sito e li troverete in maniera molto esplicata, molto esplicativa, molto chiara, ma anche molto sintetica, le azioni dei vari prodotti per attuare questa protezione naturale. Ci preme evidenziare che pur avendo un'azione di protezione, con un'azione preventiva, di tante situazioni di difficoltà, possono essere benissimo affiancati a qualsiasi altro elemento fatte salve le cautele del caso. E quindi questo significa che in ogni caso, sia per l'infanzia, sia per la persona anziana, tutti i prodotti di protezione naturale della proteina hanno un valore adeguato di azione. Grazie a tutti.